La seconda repubblica Inizio per carità, solo cifre che tanto abbassano per creare opinione. Partiamo dai numeri dei deputati e senatori e in Puglia c'è un mini esercito, 41 onorevoli e 21 senatori per un totale di 62 nomi che rappresentano la regione a Roma negli organi istituzionali, con un rapporto produttività-presenza non dei migliori. Ad esempio la Puglia si classifica al secondo posto per il tasso d'assenza dei deputati, 20%, 11,5% i senatori. Un popolo di assente istico allo pugliese, meno rassicurante la classifica della produttività. L'indice è calcolato in base agli emendamenti, alle proposte di legge, alla partecipazione dei lavori delle Camere, dalle relazioni alle commissioni, la presentazione di atti, l'interseguito, la tipologia, il consenso ricevuto. Insomma, in soldoni, quanto e cosa hanno fatto? Se le iniziative sono rimaste nei cassetti o andate a buon fine? E i nostri parlamentari vessono la maglia nera. Nella top ten c'è solo il barese Donato Bruno del PDL. Per vedere comparire di nuovo il nome Puglia bisogna scorrere giù al 31esimo posto c'è il foggiano Giuseppe Calderisi. Al 77esimo posto si classifica Pierfelice Zazzera, di Pietrista ed ex coordinatore regionale del partito Italia dei Valori. I primi salentini a spuntare in classifica si iniziano a vedere dall'83esimo posto in giù. Il Tarantino Ludovico Vico del PD ha un buon indice di produttività, 266 punti, un tasso di assenza del 5,11%. Al 182esimo posto c'è il Cese Lorenzo Rio dello Scudo Crociato. L'indice di produttività è 191, con l'1,72% di assenza. Al 190esimo posto c'è la democratica Teresa Bellanova, con un tasso di presenza altissimo, quasi il 98%, e un indice di produttività di 184 punti. Si posiziona al 224esimo posto il PDLino Luigi Vitali, che con i suoi 15 anni in Parlamento ha un indice di produttività attorno ai 163 punti. A metà strada il brindisino Luciano Sardelli ha la ribalta solo negli ultimi giorni, per essere fuoriuscito dal gruppo PDL, per aderire al gruppo misto. Scorrendo la classifica si scopre che anche la bruzzese Anna Paola Concia, del PD, è stata eletta in Puglia, come anche i centristi Lorenzo Cesa e Rocco Buttiglione, che ben poco hanno fatto. Infatti si collocano rispettivamente al 559esimo posto e al 275esimo. Una riflessione la merita Massimo D'Alema, presente nel dietro le quinte della politica regionale, meno nelle sedi istituzionali. 602esimo posto su 625 parlamentari. 446esimo è Salvatore Ruggeri con un indice di produttività pari a 91 punti. Maglia nera per i PDL, Luigi Lazzari, Ugolisi e Vincenzo Barba agli ultimi posti. 527esimo, 551esimo, 607esimo. Un commento lo merita il brindisino Antonio Gaglione, parlamentare da 8 anni e appartenente al gruppo misto, con il tasso di assenza più alto in Parlamento, 93%. Passando al Senato, invece, tra i selentini la più produttiva è Adriana Polibortone, di coesione nazionale. Open Police, la posizione al 41esimo posto con un indice di 316 punti. 53esimo posto su 322 senatori per il record man Rosario Giorgio Costa, pidielino e parlamentare da ben 17 anni e 212 giorni. Poco più giù al 74esimo posto c'è il democratico Alberto Maridati, parlamentare da 10 anni, l'indice di produttività è di 220 punti. Il di Pietrista è Giuseppe Caforio, numero 105. 71 posti in giù c'è Michele Saccomano del PDL. Male il senatore Cosimo Gallo in classifica al 235esimo posto con un indice di produttività del 66,7%. Simonetta, Licastro, Lecisi, Nicola Latore e Alberto Tedesco sono agli ultimi posti. La prima, sconosciuta e più, è senatrice del PDL da oltre 10 anni, con produttività pari al 32%. Nicola Latore è 308esimo e al 313esimo c'è Alberto Tedesco. Con l'indice di produttività più basso del Senato, 12%. Davvero poco quello che i parlamentari salentini producono per il territorio. Se si rapporta il numero dei parlamentari presenti nelle Camere, lo stipendio e i risultati raggiunti, non si addubbi l'esercito degli onorevoli. pensa solo alla poltrona.